Ehi la ciurma! Come al solito io sono Mazzetess e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duel's Amon Cat. Amon Cat, yeah, Amon Cat. E niente, la scorsa volta abbiamo affrontato l'ordalia della forza, l'ordalia della saggezza, l'ordalia del... mi ricordo un'ordalia e adesso siamo qui per la l'ordalia dell'ambizione. Chissà cosa ci faranno fare questa volta. Il tenebroso interno del monumento a Bontu fa preso a giro scuri propositi. Inseguirai la gloria a discapito dei tuoi compagni? Sai bene che solo chi è pronto a sacrificare gli altri per perseguire i propri interessi otterrà al massimo incomio dalla dea dell'ambizione. Mentre altri esitano, tu non guardi in faccia nessuno. Sebbene gli altri iniziati si siano dimostrati compagni fidati, tu sei leale solo a te stesso. Oddio! Foresta, foresta. Bello tra l'altro sta foresta di Amon Cat. Non ho tanto se anche gli altri... no, ok. Pacchetto base. Terra. Esempio di forza. Entri nel capo di dettaglio e metti tre segnalini meno uno o meno uno su una creatura di bersaglio che controlli. Ogni quale volta l'esempio di forza attacca, rimuovi un segnalino meno uno o meno uno da esso. Se lo fai guadagni un punto vita. Oh. Molto strana. Ok. Tutti mettono segnalini sui giocatori di sub... cose che controllo. Ma per quello dell'ambizione. Cioè non devi... Preoccuparti di sacrificare le tue stesse creature per potenziare le altre. Preoccupare le tue strane. Ah! ci sono un sacco di combo possibili qua cioè questa è molto succosa questa anche è molto succosa perché di nuovo la paludi? io giocherei una foresta a questo punto ma una foresta teoricamente già ce l'abbiamo no, metto una foresta comunque però no, io preferirei aspettare un turno e giocare prima al nido di scarabay se lui non gioca niente e a cosa gioca? un gulbar collante distruggi un monocolore bersaglio questo è un monocolore bersaglio ma non lo farei comunque vorrei usare prima questa nonostante prenderò dei danni voglio sfruttare al meglio le altre carte che creano dei segnalini meno uno meno uno mi attaccherò di sicuro vomita peste ok solo quelli che gioco io, vero? sì sì questa è contata come monocolore è solo nera anche se è sbrillucicosa sono stato un po' costretto diciamo purtroppo deve mettere i segnalini su se stesso ma almeno oh dei begli insetti dopo dovrei poter utilizzare i segnalini meno uno meno uno ok quindi quello bisognerebbe cercare di non farlo morire ma lui lo sacrificherà in difesa di sicuro questa cosa che faceva rimuove il segnalino meno uno meno uno da un'altra creatura che controlli o ok no sì ok no Grazie. Farei così. Ha una che ne ottiene due. E li mettiamo su lui stesso allora a sto punto. A cui rimuovono un segnalino meno uno. Ha questo. E lo manderei ad attaccare. Sì. No, manderei solo lui ad attaccare. Sì, ci sta. Così gli toglie anche un altro segnalino attaccando. Ok, blocca con quello. Avrei scommesso. Però dovevo mandarlo ad attaccare per togliergli un segnalino. Un altro disensiente condannato. Ok. Ok. Metteremo un segnalino là in modo da creare un altro insetto e da andare ad attaccare di nuovo con lui. Tanto lo posso rimuovere il segnalino da lui. A te crei con due però per essere sicuro. Ah, ma anche con questo posso attaccare. Sì. E anche con questo volendo? Sì. Togliamo lo scarabeo allora. Anche con lui? Vabbè, andiamo ad attaccare con tutto quello che c'è. Lui diventa più forte, ok. Quello si sacrificherà per uccidere l'insetto? No. Ah, ovviamente quello almeno non si sacrifica. Inutilmente. Ha molto senso. Cosa che ho perso? Ho perso. No, niente. Monumento a Bontu. Le magie e creature nere che lanci costano uno in meno. Una volta lanci una creatura ogni avversario perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. Aia, quella non mi piace per niente. Ma è un artefatto. Devo fargli tanto male perché lui mi, 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 c'è un conto alla rovescia. Più creature gioca più io muoio. Allora, quello dovrebbe mettere due segnalini meno uno su una creatura che controllo. Avrei potuto giocarlo dopo su quello. Adesso un 2-2 possono uccidermelo. Ma non me lo uccideranno. Perché se vado ad attaccare con degli insetti preferiranno attaccare gli insetti che non quello. Ah, invece no. Non è troppo stupido alla fine. Devo ucciderlo in fretta. Ma... Posso farcela comunque. Se vedi, se riuscissi a trovare del mana... Uuuuh... A patra, visire dei veleni. Ogni qualvolta a patra, visire dei veleni infligge danno da combattimento a un giocatore. Puoi mettere un segnalino meno uno meno uno su una creatura bersaglio. Ogni qualvolta metti uno o più segnalini meno uno meno uno su una creatura. Crea una pedona creatura serpente uno uno verde con tocco letale. Ah, è tipo quella, ma con il tocco letale. Sì. Anche io avrei fatto così. No, dovrebbe potermi bloccare tutto, credo. Ok, ha sacrificato due volte gli insetti per poter... Due volte delle carte per poter potenziare quella. Quello si salva. Quello si salva. E lui perde... Oh, un tot, ma neanche troppo. Pesca due carte e perde due punti vita. E sta cercando di trovare un modo per... uscire da questa impasse. Uh. Eh sì. Eh sì, questo è il gioco di brutto. Metto un segnalino meno uno su questo. No, su questo. Perché così posso rimuovere un segnalino qua. Eh, ha giocato anche un serpente per conto di lei. Sì, l'unica con cui non attaccare è l'altra. Perché l'altra, se me la uccidono, sono un po' fregato. Anche con questo, sì. Non può fermarmi tutto questo e... Salvarsi. Infatti. Infatti non ce la fa. Sacrifica tutte le sue creature e la prende comunque... Tre. Otto. Otto danni. Ottimo! Abbiamo vinto anche questa. Ci sta andando davvero benone, ultimamente. Ripulisci la lama sulla tua gamba prima di varcare la porta dorata. Dall'altro lato, i mudirri della recondita sala delle udienze di Bontu brillano alla luce di metalli e pigmenti esotici. Afferri avvidamente il tuo premio quando si materializza davanti a te e ne ammiri la superficie ricca di adorni. Hai raggiunto l'ordalia finale. E quindi prossimo episodio, ordalia finale. Ragazzi, io vi invito a spolliciare finché non vi viene blu il dito. E... Niente, lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Abbiate una buona giornata. Mi raccomando. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.